Una cosa vergognosa, sono soldi pubblici e io non percepisco soldi dal 10 agosto. Sia come cassa integrazione che come... Sia come cassa integrazione e sia come lavoro. Mi hanno fatto rientrare a lavorare, ultimi quattro giorni di novembre, dicembre, tredicesimo e gennaio, manco una lira. Però il capo dell'azienda Natale se l'ha fatto contente. Io me l'ho fatto lo stesso, contente, però non ce l'ho da fare come me l'ho fatto io. Perché io faccio sei mesi, la cassa integrazione se la manopla. Ha detto così con il contratto che ha fatto con il sindacato, il signor Capozzoli. Perché si è ormai andato e si prende solo i soldi a fine mese. Ha detto che metteva in cassa integrazione l'operai per salvare l'azienda e l'operai. L'operai che era in cassa integrazione, firmato, quando era in cassa integrazione pagava i mesi che toccavano. E' andato. Falluta per questo. Se liquidazione, gentilmente, mi liquidasse tutto, mi hanno fatto pagare pure la casa, mi hanno fatto pagare tutto, non ho pagato. La sua situazione è disperata lei con la banca purtroppo? Io sono venuto dalla banca stamattina, un mese fa l'ho chiesto una cortesia, gentilmente, non fammi andare sotto, sto pagando l'interesse alla banca. E' una vergogna, sono soldi pubblici, perché io faccio un lavoro pubblico, è un lavoro con una società SPA privata, che è un altro passato che è stato fatto sbagliato e camorristicamente. E questo è un dipendente extra consorzio. La gente paga le tasse, tra me lo primo, la spazzatura, ma sta gente si solda a due anni, facciamo un latino americano. Benissimo, non sappiamo fare un latino americano, però è una vergogna che da sei mesi non percepisco una lira. Mi voglio una risposta, cosa vuol fare il signor Capozzi e il signor Siano? Grazie a tutti.